Capitolo 22 Curiolanus non era mai stato così felice di vedere qualcuno in tutta la sua vita. Sejanus! gridò. Si buttò giù dalla branda, atterrò un po' barcollante sul pavimento di cemento verniciato e gettò le braccia al collo del nuovo arrivato. Sejanus ricambiò l'abbraccio. Certo che è un benvenuto caloroso da riservare alla persona che ti ha quasi ucciso. Curiolanus si lasciò sfuggire una risata leggermente isterica e per un attimo valutò quanto fosse corretta quell'affermazione. Era vero. Sejanus aveva messo in pericolo la sua vita intrufolandosi nell'arena, ma sarebbe stato eccessivo dare la colpa a lui per tutto il resto. Per quanto irritante potesse essere, non c'entrava nulla con la vendetta del decano Highbottom contro suo padre o con il guaio del fazzoletto. No, no, proprio il contrario. Lasciò andare Sejanus e lo studiò. Borse scure gli ombreggiavano gli occhi e doveva aver perso diversi chili. Ma nel complesso aveva un'aria più serena, come se gli avessero tolto dalle spalle il grosso peso che lo aveva oppresso a Capitol City. Cosa ci fai qui? Mmm, vediamo. Dopo aver sfidato Capitol City entrando nell'arena, anch'io sono stato sull'orlo dell'espulsione. Mio padre si è presentato davanti al consiglio dicendo che avrebbe finanziato una nuova palestra per l'Accademia, se mi avessero permesso di diplomarmi e arruolarmi nei pacificatori. Loro hanno consentito, ma io ho detto che non avrei accettato l'accordo se non avessero consentito anche a te di diplomarti. Beh, la professoressa Sickle la voleva proprio una nuova palestra, quindi ha detto che non faceva nessuna differenza, visto che tanto saremmo stati entrambi vincolati per vent'anni. Seianus posò la sacca da viaggio sul pavimento e tirò fuori la scatola con i suoi effetti personali. Quindi mi sono diplomato, chiese Coriolanus. Seianus aprì la scatola, estrasse un piccolo raccoglitore di pelle con l'emblema della scuola e glielo porse cerimoniosamente. Congratulazioni! Non rientri più nelle statistiche sull'abbandono scolastico. Coriolanus aprì la copertina e trovò un diploma con il suo nome scritto a Ghirigori. Doveva essere stato preparato in anticipo perché gli attribuiva anche la lode. Grazie. Immagino sia stupido, ma per me ha comunque importanza. Sai, se mai volessi fare il test per aspiranti ufficiali, potrebbe avere importanze come devi avere un diploma di scuola superiore. Il decano Highbottom ha fatto presente che una tale possibilità dovrebbe esserti negata. Ha detto che hai infranto delle regole durante i giochi per aiutare Lucy Gray. Ma è vero. In ogni caso, è stato messo in minoranza. Seianus ridacchiò. Ormai ha stancato tutti. Quindi non sono universalmente detestato, chiese Coriolanus. Per cosa? Per esserti innamorato? Credo che la maggior parte della gente provi compassione per te. Alla fine si è scoperto che ci sono molti romanticoni tra i nostri insegnanti, rispose Seianus. E Lucy Gray ha fatto un'ottima impressione. Coriolanus gli afferrò un braccio. Lei dov'è? Sai cosa le è successo? Seianus fece segno di no. Di solito rimandano i vincitori nei loro distretti, no? Ho paura che le abbiano fatto qualcosa di peggio. Perché abbiamo imbrogliato i giochi, confessò Coriolanus. Io ho trafficato con i serpenti perché non la mordessero. Ma lei si è limitata a usare il topicida. Allora è così che è andata. Beh, io di questo non ho sentito dire niente. Nei che lei fosse stata punita. Loro assicurò Seianus. La verità è che ha un così grande talento che probabilmente vorranno riportarla a Capitol City l'anno prossimo. L'ho pensato anch'io. Forse High Bottom aveva ragione sul fatto che l'avrebbero rimandata a casa. Coriolanus sedette sulla branda di Pertica e fissò il diploma. Sai, quando sei entrato, stavo valutando i vantaggi del suicidio. Cosa? Adesso. Quando sei finalmente libero dalle grinfie del decano High Bottom e della malvagia dottoressa Goll. Quando la ragazza dei tuoi sogni è a portata di mano. Quando in questo preciso istante mia madre sta incartando una scatola grande come un camion che trabocca di golosità per te, gridò Seianus. Amico mio, la tua vita è appena cominciata. Coriolanus si mise a ridere. Risero tutti e due. Perciò questa non è la nostra rovina? La definirei la nostra salvezza. La mia, in ogni caso. Oh, Corio. Se solo sapessi quanto sono stato felice di scappare, disse Seianus facendosi serio. Capitol City non mi è mai piaciuta. Ma dopo Younger Games, dopo quello che è successo a Marcus, non so se dicevi sul serio riguardo al suicidio, ma per me non era affatto uno scherzo. Avevo già tutto chiaro in mente. No. No, Seianus, non diamogli questa soddisfazione. Lo interruppe Coriolanus. L'altro annui pensieroso. Poi si strofinò il viso sulla manica. Mio padre dice che qui non andrà meglio. Sarò sempre un ragazzo di Capitol City, per quanto riguarda i distretti. Ma non mi importa. Si tratta comunque di un miglioramento. Allora? Com'è? O marciamo o passiamo lo straccio. È di una noia mortale. Ottimo. La mia testa può sopportare benissimo un po' di noia. Sono rimasto intrappolato in una serie infinita di discussioni con mio padre, disse Seianus. Al momento non voglio fare discorsi seri su niente. Allora adorerà i nostri compagni. Il dolore al petto era passato, e Coriolanus vedeva un barlume di speranza. Almeno ufficialmente, a Lucy Gray era stata risparmiata una punizione. Soltanto sapere che a Capitol City aveva ancora degli alleati lo tirava su di morale. E l'accenno di Seianus all'opportunità di diventare ufficiale aveva attirato la sua attenzione. Che esistesse una via d'uscita dalle sue difficoltà, dopo tutto. Un'altra strada che portava all'esercizio della propria influenza e al potere. Per il momento era già una consolazione sufficiente sapere che quella possibilità era qualcosa di cui il decano High Bottom aveva paura. «È quello che ho in mente», disse Seianus. «Ho intenzione di costruirmi una bellissima nuova vita qui. Una vita in cui, nel mio piccolo, posso rendere il mondo un posto migliore». «Servirà un bel po' di lavoro», replicò Coriolanus. «Io non ho idea di cosa diavolo mi abbia spinto a chiedere di essere assegnato al dodici». «È stato del tutto casuale, naturalmente», lo provocò Seianus. Coriolanus si sentì arrossire come uno stupido. «Non so nemmeno come trovarla, o se sarà ancora interessata a me, adesso che sono cambiate tante cose». «Scherzi, vero? Lei è innamorata pazza di te!», esclamò Seianus. «E non preoccuparti, la troveremo». Mentre aiutava Seianus a disfare i bagagli e a preparare il letto, Coriolanus venne aggiornato sulle novità di Capitol City. I suoi sospetti a proposito degli Hunger Games erano giusti. «Il mattino seguente non se n'è fatto neanche un accenno», gli raccontò Seianus. «Quando sono entrato all'Accademia per il mio colloquio, ho sentito alcuni professori parlare del fatto che coinvolgere gli studenti era stato un grosso errore. Quindi ritengo che questa edizione rimarrà un unicum. Ma non sarei sorpreso se l'anno prossimo rivedessimo Lucky Flickerman o l'Ufficio Postale Aperto per doni e scommesse». «Il nostro lascito», commentò Coriolanus. «Così pare», chiusò Seianus. Satiria ha detto alla professoressa Sickel che la dottoressa Gohl era decisa a continuare, in un modo o nell'altro. «Immagino che i giochi facciano parte della sua guerra eterna. Invece delle battaglie, noi abbiamo gli Hunger Games». «Sì, per punire i distretti e ricordare a noi stessi che razza di bestie siamo», osservò Coriolanus, concentrato ad allineare i calzini piegati dell'amico nell'armadietto. «Cosa?», chiese Seianus, lanciandogli uno strano sguardo. «Non lo so», rispose Coriolanus. «E' come... Hai presente il modo in cui se ne sta lì a torturare quel coniglio o a fondere la carne di qualche altra creatura? Come se le piacesse?», chiese Seianus. «Esatto. Secondo me, pensa che siamo tutti così, assassini nati, intrinsecamente violenti», rispose Coriolanus. «Gli Hunger Games sono un promemoria di quali mostri siamo in realtà e di quanto abbiamo bisogno di Capitol City per proteggerci dal caos». «Quindi non solo il mondo è un posto crudele, ma la sua crudeltà piace alla gente?» «Come il tema su quello che ci è piaciuto della guerra, ricordò Seianus. Come se fosse stato tutto un grande spettacolo. Scosse la testa. Un po' troppo per non rifletterci su. Lascia perdere», disse Coriolanus. «Limitiamoci a essere felici del fatto che quella donna è fuori dalle nostre vite». Con aria abbattuta, apparve Pertica, che puzzava di orinatoi e candeggina. Coriolanus lo presentò a Seianus, che, informato dei suoi guai, lo consolò promettendogli di aiutarlo con l'addestramento. «Anch'io ci ho messo un po' ad arrivarci a scuola, ma se ci sono riuscito io, puoi riuscirci anche tu». Smiley e Bug arrivarono poco dopo e accolsero Seianus con calore. Li avevano ripuliti al tavolo da poker, ma erano elettrizzati per il divertimento che si prospettava al sabato seguente. «Suonerà un gruppo al forno». Coriolanus quasi gli saltò addosso. «Un gruppo? Come si chiama?» Smiley si strinse nelle spalle. «Non me lo ricordo, però ci sarà una ragazza che canta. Dicono che sia piuttosto brava. Lussi qualcosa». «Lussi qualcosa». Il cuore di Coriolanus fece un balzo e un sorriso a trentadue denti per poco non gli spaccò in due la faccia. Seianus gli sorrise di rimando. «Sul serio? Beh, questo è un avvenimento da aspettare con ansia». Dopo che le luci vennero spente, Coriolanus rimase sdraiato, con un radioso sorriso rivolto al soffitto. Lussi Gray non solo era viva, ma si trovava nel 12 e il fine settimana successivo si sarebbe riunito a lei. La sua ragazza. Il suo amore. La sua Lussi Gray. In qualche modo erano sopravvissuti al decano, alla dottoressa e ai giochi. Dopo quelle settimane di paura, desiderio e incertezza, l'avrebbe stretta tra le braccia e non l'avrebbe più lasciata andare. Non era per quello che era venuto nel 12. Ma non erano le sole notizie su di lei. Per quanto assurdo fosse, l'apparizione di quello stesso Seianus che lo assaliva ad anni aveva contribuito a riportare in vita anche lui. Non solo con il diploma e i dolci promessi o con le rassicurazioni sul fatto che Capital City non lo disprezzava o con la speranza di una carriera da ufficiale. No. Coriolanus era sollevato perché aveva qualcuno con cui parlare che conosceva il suo mondo e, cosa più importante, il suo vero valore in quel mondo. Lo rincuorava a sapere che Strabo Plint aveva permesso a Seianus di insistere perché il suo diploma rientrasse nell'accordo per la palestra e lo considerava almeno una parziale ricompensa per avergli salvato la vita. Il vecchio Plint non lo aveva dimenticato, ne era sicuro, e magari in futuro sarebbe stato disposto a usare la sua ricchezza e il suo potere per aiutarlo. E poi, certo, ma lo adorava. Forse la situazione non era poi così disperata. Conseianus, più qualche altro ritardatario dei distretti, avevano abbastanza reclute per formare una squadra completa di 20 effettivi e come tali cominciarono ad addestrarsi. Non c'era niente da dire. Il programma dell'Accademia aveva dato a Coriolanus e Seianus un netto vantaggio in termini di forma fisica e allenamento, anche se non avevano mai partecipato a corsi sulle armi da fuoco come invece facevano ora. Il fucile standard del pacificatore era uno strumento formidabile, capace di sparare 100 colpi prima di dover essere ricaricato. Per cominciare, gli allievi si concentrarono sulle diverse parti dell'arma mentre pulivano, smontavano e rimontavano i fucili fino a essere in grado di farlo anche nel sonno. Il primo giorno in cui si erano esercitati nel tiro al bersaglio, Coriolanus aveva provato un po' di diffidenza, tanto brutti erano i suoi ricordi della guerra, ma aveva scoperto che possedere un'arma lo faceva sentire più sicuro, più forte. Seianus si rivelò un tiratore nato e ben presto si guadagnò il soprannome di Cecchino. Il nomignolo lo metteva a disagio, Coriolanus se ne rendeva conto, ma l'amico lo accettò comunque. Il lunedì successivo all'arrivo di Seianus, il primo agosto, riportò delusione tra le reclute. Scoprirono infatti di dover essere in servizio da un mese intero per poter riscuotere il loro primo salario. Smiley era particolarmente giù perché contava con quello di pagarsi i bagordi del weekend. Anche Coriolanus si sentì stringere il cuore. Come poteva sperare di vedere Lucy Gray senza i soldi per il biglietto. Dopo tre giorni pieni di solo addestramento, il giovedì portò una nota positiva. Arrivarono i pacchi di ma, che scoppiavano di dolci prelibatezze. Le facce di pertica, Smiley e Bug, che assistevano allo spacchettamento di tortini alle ciliegie, popcorn caramellati e biscotti al cioccolato con la glassa, erano uno spettacolo. Seianus e Coriolanus decretarono che i dolci erano un bene comune della camerata, cementando ancora di più la fratellanza con i commilitoni. «Sapete», disse Smiley con la bocca piena, «se volessimo, scommetto che sabato potremmo barattare un po' di questa roba. Con il gene e tutto il resto». Il suggerimento venne accettato e una parte del bottino fu messa da parte per il grande evento di sabato sera. Rinvigorito dallo zucchero, Coriolanus scrisse un biglietto di ringraziamento per Ma e una lettera per Tigris, garantendole che stava benissimo. Cercò di ironizzare sulla routine estenuante e di mettere in evidenza la prospettiva di diventare ufficiale. Aveva comprato un manuale usato, pieno di orecchie, di preparazione al test per aspiranti ufficiali, che conteneva esempi delle domande. L'esame era ideato per valutare le capacità scolastiche ed era composto principalmente da quesiti di grammatica, matematica e geometria, anche se era richiesta la conoscenza di alcune disposizioni e norme di base per la parte di argomento militare. Se Coriolanus avesse superato il test, non sarebbe diventato un ufficiale, ma avrebbe potuto iniziare l'addestramento specifico. Aveva un buon presentimento sulle sue possibilità, se non altro perché molte altre reclute erano quasi analfabete. Le poche lezioni che avevano seguito sui valori e le tradizioni dei pacificatori lo avevano chiarito senza ombra di dubbio. Comunicò a Tigris la dolente notizia riguardo alla sua paga, ma le assicurò che il denaro sarebbe arrivato a partire dal primo settembre, puntuale come un orologio. Mentre con la lingua si toglieva residui di popcorn dai denti, si ricordò di informare la cugina dell'arrivo di Sejanus e le consigliò, in caso di emergenza, di rivolgersi a Maplint. Venerdì mattina, l'atmosfera della sala mensa era molto tesa e Smiley tirò fuori la storia che gli aveva raccontato un'infermiera conosciuta in ambulatorio. Circa un mese prima, più o meno nel periodo della mietitura, un pacificatore e due capi del distretto 12 erano rimasti uccisi da un'esplosione in miniera. L'indagine sul crimine aveva condotto all'arresto di un uomo i cui familiari erano stati noti leader ribelli durante la guerra. Dovevano impiccarlo quel pomeriggio. Per l'occasione le miniere sospendevano l'attività e gli operai erano tenuti a presenziare all'esecuzione. Coriolanus non vedeva come quella faccenda potesse riguardarlo, da novellino qual era, perciò seguì il suo solito programma. Ma durante le esercitazioni, il comandante della base, un vecchio caprone di nome Hoff, passò di lì e rimase a guardare le reclute per un po'. Prima di andarsene scambiò qualche parola con il sergente istruttore, che subito chiamò Coriolanus e Seianus. «Voi due, oggi pomeriggio andrete all'impiccagione. Il comandante vuole più uomini per impressionare la gente e cerca reclute in grado di cavarsela. Presentatevi per il trasporto a mezzogiorno in uniforme, seguite gli ordini e andrà tutto bene». Coriolanus e Seianus saltarono il pranzo e si affrettarono a tornare in camerata per cambiarsi. «Quindi l'obiettivo dell'assassino era solo il pacificatore», chiese Coriolanus mentre indossava la sua nuova uniforme bianca per la prima volta. «Ho sentito dire che stava tentando di sabotare la produzione di carbone e ha ucciso quei tre accidentalmente», rispose Seianus. «Sabotare la produzione? E a che scopo?» chiese ancora Coriolanus. «Non lo so. Nella speranza di far ricominciare la ribellione?» Coriolanus si limitò a scuotere la testa. Perché quella gente credeva che bastasse alimentare la rabbia per dar vita a una rivolta? Non avevano esercito, armi o leader. All'Accademia avevano imparato che l'ultima guerra era stata scatenata dai ribelli del distretto 13, i quali erano riusciti ad accedere ad armi e informazioni e a diffonderle tra i loro seguaci in tutto Panem. Ma il 13 era svanito in una nuvola di fumo nucleare insieme alla fortuna degli Snow. Non era rimasto più niente e qualsiasi idea di sollevare una nuova ribellione era pura stupidità. Quando si presentarono in servizio, Coriolanus rimase sorpreso che gli venisse assegnato un fucile dal momento che il suo addestramento era ancora limitato a dir poco. «Non preoccuparti, il maggiore ha detto che tutto quello che dobbiamo fare è stare sull'attenti», gli disse un'altra recluta. furono fatti salire sul retro di un camion che lasciò la caserma e si avviò lungo una strada che girava tutto intorno al distretto 12. Coriolanus si sentiva nervoso dal momento che quello era il suo primo vero incarico come pacificatore, ma in fondo anche un po' emozionato. Qualche settimana prima era solo uno studente, ma ora portava un uniforme, un'arma, insomma, era un uomo. e la relazione con Capitol City proiettava potere anche sul più basso in grado dei pacificatori. Al solo pensiero si mise seduto più eretto. A mano a mano che il camion percorreva il perimetro del distretto, le costruzioni passarono da anonime a squallide. Le porte e le finestre delle case cadenti erano spalancate nella calura. Donne dai volti inespressivi sedevano sulla soglia, tenendo d'occhio bambini seminudi con le costole sporgenti che giocavano svogliati in mezzo alla sporcizia. Le pompe di alcuni giardini testimoniavano la mancanza di acqua corrente e i cavi cascanti dell'alta tensione suggerivano che l'elettricità fosse tutt'altro che garantita. Coriolanus fu spaventato da quel grado di miseria. Lui era stato in ristrettezze per praticamente tutta la sua vita, ma gli snow si erano sempre impegnati al massimo per mantenere il decoro. Quella gente invece si era arresa e una parte di lui le attribuiva la colpa della situazione in cui si trovava. Scosse la testa. Eppure pompiamo un sacco di soldi nei distretti, disse. Doveva essere così per forza. Gli abitanti di Capitol City se ne lamentavano in continuazione. Il denaro lo pompiamo nelle nostre industrie e non nei distretti, replicò Sejanus. La gente è sola. Il camion si allontanò rumorosamente dalla cenere e imboccò una strada non asfaltata che curvava intorno a un grande campo di terra battuta ed erbacce, finendo davanti a un bosco. Capitol City aveva piccole zone boschive in alcuni parchi, ma sempre curatissime. Coriolano si immaginò che quello invece fosse ciò che si intendeva per foresta o anche per natura selvaggia. Folti alberi, rampicanti e sottobosco crescevano in tutte le direzioni. Era un disordine che lo infastidiva. E chi sapeva che genere di creature lo abitavano? Il miscuglio di ronzii, sussurri e frusci lo innervosiva. E che baccano facevano gli uccelli! Un grande albero si innalzava sul limitare del bosco, i rami che si allargavano come grosse braccia nodose. Da uno di essi che sporgeva in orizzontale pendeva un cappio. Appena sotto era stata eretta una rudimentale piattaforma con due botole. Continuano a prometterci una forca adeguata, disse il maggiore al comando, un uomo di mezza età. Nel frattempo alcuni di noi hanno improvvisato questa. Una volta li appendevamo semplicemente i sandoli da terra, ma poi ci mettevano una vita a morire e chi ha il tempo di stargli dietro? Una delle reclute femminili che Coriolanus riconobbe dal giorno della scarpinata fino alla base alzò timidamente una mano. Chi impicchiamo? Oh, qualche scontento che ha provato a far chiudere le miniere, rispose il maggiore. Sono tutti scontenti, ma questo è il capobanda. Si chiama Arlo qualcosa. Ce ne sono altri cui stiamo ancora dando la caccia, anche se non so dove pensino di scappare. Non esiste un posto dove scappare. D'accordo, tutti giù. Il ruolo di Coriolanus e Seianus era soprattutto ornamentale. Rimasero a riposo nell'ultima fila di una delle due squadre da venti che fiancheggiavano la piattaforma. Altri 60 pacificatori erano distribuiti lungo il bordo del campo. A Coriolanus non piaceva dare le spalle a tutta quella fauna e a tutta quella flora incolta, ma gli ordini erano ordini. Teneva lo sguardo fisso in avanti, oltre il campo e verso il distretto, dal quale cominciava a uscire un flusso regolare di uomini. A giudicare dalle facce annerite e dalla polvere di carbone, molti arrivavano direttamente dalle miniere. A questi si unirono donne e bambini appena più puliti e insieme le diverse famiglie si radunarono nel campo. Coriolanus cominciò a sentirsi inquieto quando le persone già presenti in gran numero divennero centinaia e altre ancora ne arrivarono spingendo avanti la folla in modo inquietante. Tre veicoli percorsero ad agio la strada sterrata verso la forca. Dal primo, una vecchia auto che sarebbe stata considerata di lusso prima della guerra, scese il sindaco del distretto 12, Lip, seguito da una donna di mezza età con i capelli biondi tinti e da Mayfair, la ragazza che era stata al bersaglio del serpente di Lucy Gray il giorno della mietitura. I tre si strinsero compatti accanto alla piattaforma. Il comandante Hoff e un gruppetto di ufficiali uscirono dalla seconda macchina che esibiva sul cofano una svolazzante bandiera di Panem. Un'ondata di angoscia attraversò la folla quando si spalancarono gli sportelli sul retro dell'ultimo veicolo, un furgone bianco dei pacificatori. Due guardie saltarono a terra, poi si voltarono per aiutare il prigioniero a scendere. Pesantemente incatenato, l'uomo alto e snello riuscì a rimanere in piedi mentre lo scortavano fino alla piattaforma. Trascinò a fatica le catene su per gli scalini traballanti e le guardie lo fecero fermare in corrispondenza di una delle due botole. Il maggiore sbraitò l'ordine di mettersi sull'attenti e Coriolanus scattò in posizione. Tecnicamente il suo sguardo avrebbe dovuto essere rivolto in avanti ma con la coda dell'occhio riusciva a vedere cosa succedeva e in ultima fila si sentiva abbastanza nascosto. Non aveva mai assistito a un'esecuzione dal vivo le aveva sempre seguite solo in tv e per qualche motivo non riusciva a distogliere lo sguardo. La folla si zittì e un pacificatore lesse ad alta voce l'elenco dei crimini dei quali il condannato Arlo Cens era stato giudicato colpevole tra cui l'uccisione di tre uomini. Per quanto il soldato tentasse di farsi sentire la sua voce suonava fiacca nell'aria calda e umida. Quando terminò il comandante fece un cenno ai pacificatori sulla piattaforma offrirono al condannato una benda che lui rifiutò dopodiché gli misero il cappio intorno al collo. L'uomo rimase impassibile a fissare il vuoto in attesa della sua fine. Dalla parte opposta della piattaforma partì un rullo di tamburi che suscitò un grido nelle prime file di spettatori. Coriolanus spostò lo sguardo per individuarne l'origine. Una giovane donna dalla pelle olivastra e dai lunghi capelli neri si sollevò al di sopra della folla mentre un uomo cercava di portarla via ma la poveretta lottava disperatamente per slanciarsi in avanti urlando Arlo! Arlo! I pacificatori la stavano già cerchiando. La voce ebbe l'effetto di una scossa elettrica su Arlo il cui viso mostrò prima sorpresa poi orrore. Scappa! gridò. Scappa Lil! Scappa! Il colpo secco della botola che si apriva e la successiva vibrazione della corda lo interruppero a metà di una parola facendo sussultare la folla. Arlo penzolò nel vuoto e parve morire all'istante. Nel silenzio inquietante che seguì Coriolanus sentì il sudore colargli lungo le costole mentre attendeva l'epilogo della vicenda. Gli spettatori avrebbero attaccato. Ci si aspettava che lui sparasse su di loro. si ricordava come funzionava il fucile tese le orecchie in attesa dell'ordine e invece udì la voce dell'uomo morto risuonare lugubre come se provenisse dal cadavere che dondolava piano. Scappa Lil! Scappa! Scappa! Grazie a tutti! Grazie a tutti!